Aspetta, mettiamo tutti e due il video Sì sì, tu inizia quando vuoi Poi Tanto l'epic fail inizia Lo devo registrare Ecco qua Ci siamo Ciao a tutti Siamo qui in compagnia con Isaac Su Battlefield Operativa Preparateli già al fail Guarda che sono partiti Dario Vai che non so qui da Non ti preoccupare, ce la faremo Dai Dario Vai Oh, pro pro Dario Sì, pro per due secondi, aspetta, pro poco No, no, sì, sì, dai Vai, vai, dai che sei pro Vai, vai pro Dario No, no, no Aspetta, aspetta, aspetta No, no, no Aiutala Ecco, ecco Calvati Dario Ok, come io andiamo indietro Ok, che ci schiamiamo Aspetta No, no Calvati Dario Fermo dai fermo dai fermo dai fermo dai fermo non so guidare se l'ho già detto merda dobbiamo aspettare un po' allora che ci ripariamo niente siamo destinati a morire Daria non possiamo ripararci vabbè dai schiantiamoci tanto per bellezza vai prima che esploda schiantati Daria no no io voglio guidarlo beh lol anche tempo di incominciare che abbiamo già fallito aspetta ok faccio io faccio io si si ci cambiano perchè se una per o l'altro no non ci ha cambiato ma provo vuoi che provare vai 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 o con calma e muovi poco il mouse ma allora e io devo capire se dopo che andiamo troppo in alto vabbè con s vai un po' più in giù vedi poi semmo aspetta 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 ok ok forse ci sono ciao il bello lo dico a tutti il bello è che Dario ha giocato che ne so 3 4 anni in un gioco mmrpg di aerei proprio si ma qual'è arriva se è tutt'altro è tutt'altra cosa è la stessa cosa che ci schiantiamo no 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 stai imparando no non stai parlando mi ricordo proprio dai merda questo intanto dondoliamo o così o così va bene mi accontento intanto distruggo questo adesso dobbiamo fare i giretti cioè devi girarti dai che è facile girarsi no così no così Dario no così girati con Wast no non so com'è che si ci gira comunque io vai vai che siamo pronti dai 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 distruggo il mortaio aspetta io devo devo concentrarmi ti faccio girare sul mortaio dopo se vuoi essere un po' più pro puoi anche sparare occhio 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 no no ci ha distrutti ormai eccolo la boom oh se continua se continua a metterci in questi posti mi sa che cambiamo oh guida il testo che ci devi conter si lo guido io vai Dario devo guidarlo non faccio vai 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 tu fai continua dovrebbe cambiarci i posti mi pare non boh non so no vediamo adesso speriamo che ci abbia cambiato si ci ha cambiato ok ok vai oh e stavolta non guardare il sole mi raccomando no non c'è il sole c'era ah se però forse ho visto cosa che ti accecava quando cambiavi da visione notturna a visione normale ti flash a un attimo perchè è il cambio di è troppo luminoso proprio la mappa col sole ah perchè siamo nel deserto in certi punti ah non ti ti spara flash agli occhi cazzo ahahah 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 vai Dario allenamento sparare sparare acquedotti si manco i piedi vedi c'è troppo luminoso certo punti buttato giù buttiamo giù anche l'altro dai aria eccola poi intanto ti alleni anche a mirare con la gravità perchè sti proiettivi sono anche vediamo siamo guarda il benzinatoio sai dov'è non farlo saltare adesso fallo saltare dopo quando ci sono i nemici andiamo con i mortai quello la davanti fuori uno e l'altro e anche questo ora ci sono i nemici li vedi qua terra si si almeno questi ce ne sono altri eccola sono i miei amici stavo sparando i miei amici certo che siamo degli epic fail varia gli rpg sopra i tetti oh non li vedo vedo tutto bianco ah ma sono qua sotto sulla strada ma veramente adesso ho cercato cazzo lo stesso ti ho detto adesso sui campi di grano vai dario sui tetti è troppo chiaro eh dobbiamo abbassarti la luminosità allora mi sa adesso si ma almeno li vedi i triangolini i nemici che ti spot che ti si si almeno quelli dai mi pare di averne visto una eccola la guarda che spara dai li vedi che spara no no si eh almeno quello ma guarda là dove 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 è sotto Dario eh cioè sotto nella visuale in basso se non sbaglio te c'hai un un una specie di figuretta immaginetta con un quadrato un cerchio sopra eh eh il cerchio è dove sto mirando io il quadrato invece sei te il quadratino sei te non capisco molto no è vero ora che ci penso non si capisce tanto è vero vabbè facciamo stare guarda qui spara al benzinatoio vai d'aria benzinatoio ahahah eccolo qua chi è che bot eccoli qua sull'intensi sui fiumi ecco ce ne sono un po' sulla strada lì per minchia dire sotto sotto di noi boh io spara sotto di noi ma te usi la visione notturna? no no e tante volte la visione notturna usala quando ci sono nemici lontani che sono difficili da vedere ma comunque si vedono perché sparano fanno un flash pazzesco e sono neri poi ma troppi effetti troppi effetti non sei abituato devi iniziare che ne so farei la campagna che così ti abitui un po' con gli effetti senza fare strage nella kd che ne so mi chiede la luminositiva ci vuole veramente si la grebie e tre gazz ma boom la luminositiva beh ma dopo ci regoliamo eh qui ci sparano vedi i proiettili che arrivano c'è uno lì eccola la e così morì ma si le buttiamo giù anche l'intera casa tanto non c'è nessun altro mmm ha un po' calato no no dovrebbero avanzare allora forse ce ne sono un po' dentro le case che non vediamo no forse eccola 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 sotto di noi sotto di noi vada l'hai colpito? c'è manasse uno ah ecco di me ecco adesso. oh adesso thema siamo morti prima , ah no è un po' prima sparatano colder zoやって bvvvvvvvvv bom 00 come? bvvvv vяж se ricorda bvvvvvvvvvvvovvvvv vivalce prima che ci spari se ricorda con 2 no col mitra col 2 col secondo attacco però allora questo punto mi ha fatto saltare prima io vai daria riesce a farlo saltare anche questo ma è così acerfai allora speriamo noi mara che tira avanti il suo cane il suo caro alleato lì guarda andato di là foto salaria sottopi nata allora che ci sono altri due nemici altri nemici qua finchè son mini e ti sono non so sono pulci vista dall'alto ecco lì qua guarda quanti ora quanti d'arrivare che gli ammazziamo in massa sugli rpg l'rpg là in fondo buon per noi guarda qua spari lì vedi dovrebbero essere sotto di noi in teoria no 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 ah con ci metti la visuale in cioè in visuale oh merda oh merda qui dove siamo morti noi aspetta che mi allontano un attimo se no moriamo riesci a locarli da aspetta fai fuori prima il mezzo riesci a locarli aspetta che mi abbasso un attimo di quota atterriamo un attimo che ci ricarichiamo la vita vediamo se ne salta uno comunque con c metti la visuale dal passeggero e se tieni premuto il tasto destro puoi guardare a destra e a sinistra ok anche senso premuto testa allora concatare vai sparati di nuovo veloce un attacchi a posto di me non si può ricaricare la vita di sto cosa ma è veloce no c'hanno ancora distrutto porca miseria ma come si fa dist come si fa a fare sta parte non lo so ci spaccano quei carri cazzo si ma il problema è che non ci si può ricaricare la vita oh c'è adesso tocca a te mi sa si adesso moriamo subito è bello che è facile è vero qua siamo troppo nabbi vai 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 come faccio ad andare avanti cercando niente come vai su quel mouse no non c'è non c'è non c'è da notare come quando guido io è tutto normale quando guido dai dondoliamo ora non dondoli eh no si è diventato pro o c'è la montagna tanto è sicuro qua per niente nooo dai non è sicuro intanto gli elicotteri dove sono beh dai se ti tieni così in alto forse riesco ad ammazzare più gente intanto faccio fuori un po' di roba ne so l'acquedotto lì non mi piace dimmi quando mi devo girare beh faresti bene a girarti il problema è che non so se si dai ci siamo riusciti faccio fuori un po' di acqua se sto in alta quota così non becco niente nessuno eh si è vero ecco gli line nemici guarda aspetta non mi capisco più no 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 ma invece non mi capivo più ok ci siamo ripresi quasi faccio fuori i mortali occhio mamma mia mamma mia adesso rischiamo subito rischiamo dai no dai rischiamo un po' mc dai non è difficile è difficile no 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 il retromarcianario ahahah te l'ho detto io nooo ma che cacchio è che vai in retromarcia perché oh non riesco a guidare te l'ho detto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti